Questo è lo stand della Scuola Internazionale di Comics, sede di Firenze. La presenza della Scuola Internazionale all'Internet Festival 2014 è motivata dal fatto che da circa due anni la scuola gestisce corsi di game development, quest'anno infatti partirà con dei corsi legati appunto al game design, alla concept art per videogioco, alla modellazione sculpting 3D e alla programmazione. Questo ovviamente è svolto in joint venture con la scuola di arti digitali Event Horizon di Torino. In questi giorni di Internet Festival abbiamo portato qui degli elaborati, sviluppati negli ultimi quattro mesi da studenti e studentesse nel primo anno di game development, quindi afferenti sia alla classe di programmazione sia alla classe di art and graphic e attraverso appunto questi pannelli noi mostriamo proprio lo sviluppo di tre titoli. Tre titoli molto semplici nella, diciamo, nell'architettura di gioco perché sono tre shoot'em up e ci teniamo molto attraverso queste immagini a mostrare proprio una sintesi di ciascun titolo attraverso proprio la pipeline di sviluppo, cioè partendo appunto dalla concept art iniziale, passando poi nella zona appunto di turnaround, modellazione dei personaggi o degli elementi di gioco, dei props, fino ad arrivare proprio al texturing, al menu design e a tutta la parte riguardante appunto gli screenshot di gameplay. Abbiamo quest'oggi anche dopo aver svolto dei workshop a cura di Event Horizon di modellazione e di programmazione, oggi abbiamo proprio programmatori e grafici che qui mostrano alcune fasi proprio in tempo reale di pipeline di sviluppo di questi titoli.